Vieni qua Fenix, andiamo! Perco di... Ehm, ben tutti ragazzi, in questo nuovo video in compagnia di Fenix. Ciao ragazzi! Perfetto, stai per iniziare e voglio approfittarne per dirvi una cosa, ovvero che sto usando adesso un attimo il microfono vecchio, perché con quello nuovo sto avendo problemi con il mixer. Non so perché si sta sfuggando, se ne va puttana in pratica, quindi devo sistemarlo. Però alla fine... Ehm, però alla fine la qualità è la stessa, è tale babatto. Ehm, mamma... Ok, se rompendo i blocchi io con una freccia, che cazzo? No, figlio di troia, la lava! Ma poi ho trovato tipo tutte le cose fighissime. Aspetta. Oddio, gravità zero a posto, perfetto, io jumpo. Emerald? Perché serve il bastone? Eh, dove sei? Aspetta. Oh, non lo so. Io vedo, io ho il shumosti. Ma io posso shoppare il suo server, ho sbaglio. Campa pure io! Che figata! Aspetta, raga, calma. Da quanto tempo? Enderpearl solo per... Oh, abbiamo l'enderpearl solo per youtuber. Che cazzo c'è? C'è uno qua! Oh! Enderpearl tattica! Enderpearl tattica! Stira là! Vai, vai, vai! Che culo! Oddio! Raga! No, no, raga! Non potete capire che cazzo ho fatto. Figlio di troia, sei tippato ancora. Campa, dove sei? Oh! Oh! Tira! Tira, tira, tira! No, raga, non abbiamo shoppato noi, no. È un kit iniziale, lo giuro. Lo giuro. No, no. Eh, tu non l'hai visto niente. No, 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 no. Campa, ti già ti stanno inculando. No, ma che è? Beh, con la cesta della minchia. Oh, troppato con l'alto blocco. Ah, quello di nuovo kamikaze. Uh! Che giulo. No! Vabbè, vaffanculo. Ho avuto la sfortuna della minchia. Qua dentro cosa c'è? C'è una cesta. Oddio, il kamikaze! Mortacci tuo! Allora, eh, ok. Eh, io prendo anche sto piccone perché ci sta, ci sta. Ok, perfetto, a posto. E... Un bacco, una. Ciao! Arrivo! Andiamo a qualcosa trovo. Un, una cesta. Darko, Uber Power. È un accendino. Oddio, 17 mele d'oro. Cioè, vabbè. Guarda! Guarda, ma sei invisibile? Aspetta, anch'io. Aspetta, aspetta, aspetta. Minchia, l'ho preso a quell'usuka. Faze Emerald. Ok, vabbè, la spalina che sto facendo tutta qua. Però è una cosa bella che è invisibile, però, è l'armatura che si vede. Ah! Qua un po' vuoi fare uno scambio eco. Vabbè? Allora, io ti do la Master Sword, quella che toglie 10,75, se tu mi dai un po' di armatura. Eh, vabbè, ok. Tieni, allora... Dov'è? Ti do... Questo? Ti do il caschetto. Ma prenditi anche i piedini. Ma prenditela tutta, cioè, zio, tieni. Cazzo, vera. Ok. Aspetta, ma io c'ho una tattica. Oh, mi sto buttando! C'è uno accanto! Adesso! Ma poi, ti hanno ucciso. Che va? Che faccio il grado, senza armatura di shot. Dio! Allora, raga, adesso faremo un piccolo troll, ok? Quindi, prendiamo la prozione di invisibilità. E l'Ender Pearl, ok? Abbiamo questi lucky block. Oh, che culo la Master Sword! Sì, la Master Sword. Aiuto! Ok, ho preso anche questo. Lo spirito di fuoco della Madonna. Cosa? E' stata una cosa bella. Mi è spuntata quella, tipo, quella cesta dove ti dice, è esposentata a 321. Eh... Il frattempo mi, tipo, mi telefonano al cellulare, quindi non l'ho visto. Aperto la chest e poi c'era scritto quella cosa. Oh, cazzo. Allora, ho anche la TNT. Di nuovo! Ok, aspetta, 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 aspetta. Oh, ma questo qui. Allora, fermi, 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 raga. Adesso inizia il troll, eh? La droga. Si trolla? Sshh. Quale troll? Sshh. Meno uno! Ok, perfetto. Adesso. Allora. Zitto, raga. Zitti. No, si è tippato lo stronzo. No! No, mi ha sgamato, mortacci sua! No, 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 non ti farei sgamare. Non favo uno sgamato. No, te l'ho ucciso. Dei figli di buttana. Aspetta, aspetta, vediamo cosa riesco a fare un attimo. Aspetta, vediamo se c'è il culo. Ok, ho trovato la Master Sword a posto. Allora, guarda di cosa consiste, raga. Prendiamo un enderpearl. La tiriamo là. Mettiamoci senza nulla. Ciao. No! Ah! In che se si salva? Ok, non si è salvato. A posto. Ciao, ciao! Ci vediamo domani. Adesso andiamo in quello là, di nuovo. No, nulla. Ok. Mi sono buggato. Shiftiamoci. Lui non ci vede. Cazzo come se non ci vede! Vabbè. È morto così. Perfetto. Mangiamoci un'altra golden apple. Allora, qui si sta per tippare là. Noi cosa facciamo? Ci tippiamo pure. Leviamo tutto. Che facciamo? Lo spingiamo giù così. Ciao! E meno un altro. Ok. No, 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 no. Sto qui. Cazzo, sto qui. Oh, sta spadando a random. Perché non riesce a vedermi? Cazzo, m'ho visto! M'ho visto! Zitto, 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 zitto. Dai, chi si è? Aspetta, 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 aspetta. Ok. Piano. Piano. Ciao. È meno una... Ho vinto! Ho vinto trollando! Sì! Ma come cazzo hai fatto? Oddio, bellissimo! E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di passare canale in descrizione che quello di Fenix. Quindi iscrivetevi perché è un bravo ragazzo. Fatelo, mi raccomando. Lui non mi ha pagato per dirlo. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Bella! Bella! Trinaby Hosting, the performance hosting solution.